Sono stati tanti i momenti di intensa spiritualità vissuti mercoledì 22 giugno in occasione della festa del voto che ricorda il salvataggio di Assisi dall'assedio dei Saraceni grazie alla preghiera di intercessione di Santa Chiara. In tanti hanno partecipato al corteo religioso che in piazza del comune si è unito a quello civile per proseguire tutti insieme verso la Basilica della Santa dove si è reso omaggio alle clarisse del protomonastero che custodiscono le spoglie e il carisma della compagna di Francesco. Tra i gesti significativi ci sono stati la lettura dell'ordinanza del Consiglio Comunale con cui il 26 maggio 1644 venne istituita la festa del voto, il saluto delle clarisse, l'omaggio floreale del sindaco di Assisi Stefania Proietti, l'offerta dei ceri, la celebrazione di compieta e benedizione eucaristica e il saluto del ministro provinciale dei Frati Minori dell'Umbria.